In questo camp ho fatto delle nuove amicizie, nuove esperienze, ho imparato a stare di più con le persone, a rapportarmi meglio e sono riuscita a sconfiggere le mie paure e ci hanno aiutato a stare con le persone facendoci capire come noi siamo dentro e fuori e di accettarci come noi siamo. Grazie a tutti.